Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo video, io sono Alessandria e Alex e bentornati nel mio canale Oggi siamo su FIFA 19, ovviamente come sempre siamo sulla mia carriera, sul mio gioco volevo dire di FIFA 19 Ma non siamo nella nostra carriera del Sunderlande, ma è giusto un po' diverso, giusto un po' diverso Siamo in un'altra carriera che non avrei mai pensato di mettere su YouTube Questa è la mia carriera giocatore, Alessandro Scefo, Scefo non è il mio cognome ma mi è venuta in mente perché ho pensato a Scemo Mi è venuta fuori la F, allora ho detto Scefo, può essere Scefo, Scefo ci sta Bellino Perché mai non mettere Scefo E allora abbiamo di cognome Scefo e io sono pronto per portare qui un episodio nuovo Allora Questa è un po' più da tenere sulle spine questa carriera Perché è una carriera non come le altre giocatore, ma è una carriera non come le altre allenatore Ma è uno giocatore, quindi ti tiene più sulle spine sui risultati Tipo adesso, rete Due gol e un assist nella carriera, due gol, un assist, un cartellino giallo e due rossi E ho fatto solo sei partite, questa è la settima Sette partite, questa è la sette Questa è la sette Prima sei solo, solo sei partite Mamma mia, quasi all'inizio del secondo tempo Perché siamo un po' andati avanti Però Ed è rete Mamma mia, 1-0 Ce ne ho voluto per segnare Questo è tipo il mio terzo tiro nella partita E' impegnativo fare gol Fuori gioco Naccia voi brutti Sono un po' stanco Dovrei stare un po' fermo Se non ho rischio di essere sostituito Stendi, stai in attacco Cavolo, bravo Dai Panute Perché me l'hai ridata all'improvviso lunga me? Alleluia Mia Eh, fiorillo Piano, fiorillo Quello è un nostro compagno Dai L'avevo presa pure bene di testa Sto 6 Sto 9,5 Palla che torna nuovamente in possesso agli avversari La banca appella Embalo Dai Embalo Un ingu Canute Bravo Canute Io vengo sostituito Mi sa Sono proprio stanco Matteo Ciofani Ah, si chiama Matteo Ciofani Non lo sapevo Cioca di nome Matteo Se vuoi scrivere Di cognome Ciofani Vai, avanziamo Subito Via, via, via Lunga Lunga per me Lunga per me Ma non lì Dai L'avevo segnato Fuorigioco Fuorigiocista Non so se esiste Sto per ora Fuorigiocista Provo a non fare brutta sicura Faccio finta che esiste Anche se fosse esiste Veramente Legittimo It's gone Eh, niente Io ho già giocato contro di voi La prima Cioè, la coppa No, l'ho parata Ma come? Ma chi lo sa? Litteri Bello Bello È sostituito Ecco Lo sapevo Che sarei venuto Sostituito Che Balzano Recuperato Dall'infortunio No Devo dire che Balzano Era l'attaccante No Vira dalla distanza 67 E io infatti ho avuto due club Adesso sono trasferito al Pescara Perché è meglio Appena arrivato da Fiji Copenhagen Per un milione E duecentomila Sono pochi Perché prima valevo Un milione Un milione E duecentomila Adesso valevo Due milioni E settecentomila Quindi Mi sono alzato Di un milione E cinquecentomila Eh Sì perché Allenandomi Cioè Ero sessantasei Quando mi sono trasferito Adesso sono Settantuno Allora Salviamo ed usciamo Perché devo tornare Nella mia carriera Sunderland Perché non posso stare In quest'altra carriera Ciao ragazzi